Seconda seduta di allenamento a porte aperte qui al Partenio Lombardi, da oggi si chiuderanno. Domenica c'è il derby attesissimo di Benevento e allora le buone notizie ci sono, come la prima, è che dopo il rientro in gruppo di Raffaele Russo si è rivisto anche Sgarbi, anche se ha corso un po' e poi come un bambino al quale è stata tolta la palla, assistito a tutta la seduta con lo sguardo nostalgico dalla panchina e un tutore molto meno invasivo di quello di Picerno alla mano che è stato operato. Ora aspettiamo di sapere quando si potrà togliere i punti ma dovrebbe essere nella lista dei convocati per la sfida di domenica. Parlavamo di Raffaele Russo, è stato provato insieme a Michele Marconi un segnale indicativo, forse non partirà dall'inizio ma resta una freccia importante nell'arco di Michele Pazienzo. Michele Pazienzo ha già più carico oggi rispetto a quello più pensieroso e riflessivo della seduta di ieri pomeriggio. La squadra ha lavorato come sempre divisa in due gruppi e nel secondo gruppo si sono vissi in particolare Benedetti, Cionec e Tito che sono gli osservati speciali, sono quelli che devono recuperare ma che hanno grandissima voglia, grandissima determinazione, sanno che il loro contributo è fondamentale per questa squadra che non vince dalla trasferta di Brindisi praticamente un mese fa e che deve ritrovare prima di tutto fiducia in se stessa, serenità e questo può avvenire soltanto con i risultati.